ciao sono anna soave benvenuti sul mio canale youtube oggi parliamo di purity air un anno dopo 3 2 1 sigla se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate il campanello per essere aggiornati su ogni nuovo contenuto inoltre vi ricordo che attivo il mio sito web www.annasuave.net dove potete trovare la mia storia personale e di business e tantissimi contenuti riguardanti il network marketing marzo 2020 marzo 2021 un anno di questo macchinario strepitoso che si chiama purity air del brand purity di arix all'interno della mia casa voglio portarvi la mia testimonianza perché sono sicura può essere d'aiuto alle tantissime persone che sono allergiche come me io ho un'allergia molto seria a tutto ciò che è acaro pollini polveri nonché a una serie infinita di graminacee parietarie che praticamente ci sono tutto il tempo dell'anno ovviamente autunno e primavera mi dà sempre dei picchi di allergia pazzeschi sono seguita da più di vent'anni da un centro allergologico ospedaliero ho fatto un'infinità di cure sia omeopatiche ho fatto dei vaccini ho fatto delle cure chimiche che mi hanno aiutato tantissimo ma mai nessuno mi aveva consigliato di valutare anche la qualità dell'aria che avevo soprattutto in casa e adesso vi dico in un anno cosa ho riscontrato grazie al purity air sempre accanto innanzitutto finalmente non si starnutisce più in casa e questa è una cosa grandiosa perché alla mattina apro le finestre a rieggio tutti i locali qualche starnuto parte perché ovviamente i polini entrano ma dal momento che chiudo e accendo il mio purity air in pochissimi minuti ricomincio a respirare bene e non si starnutisce più e gli occhi non lacrimano più e il respiro non diventa più alto ma è più profondo altro aspetto fondamentale la notte io ho un materasso in schiuma di lattici con tutto il cuscino super top anti acarono antipolvere antipolline lavo le lenzuola con detergenti appositi per la mia allergia eppure da quando il purity air è nella mia camera da letto riposo molto meglio alla mattina non mi sveglio più con gli occhi gonfi come prima e mi rendo conto che il mio respiro è molto più basso prima avevo sempre un respiro molto superficiale e adesso voilà il nuovo purity air 2.0 fate attenzione perché questo macchinario sta dettando le nuove regole per alzare gli standard dei purificatori d'aria che ci sono in commercio hello everybody camera bot here your area president for new age arcs and i am so excited to be with you today i want to talk about something that's really important to me and important to us here at new age arcs and that is air quality now we all know that bad air quality can have a huge impact on our health it can have a huge impact on our mental health as well there's so many studies out there showing us that the impact of bad air quality however we know that great air quality can also have a positive impact on our lives especially now that we're all in close quarters together it's so important that we have clean air fresh air all the time in our homes you know we already have an amazing air filter for this but you know us here at new age arcs we don't settle for amazing we're looking for extraordinary so that is why today i'm so excited to be able to present to you the newest purity machine all right so we all love the 1.0 version of this machine but we're so excited to bring out the 2.0 version it does great things it can intercept particulates in the air it cleans out formaldehydes and the zeolite inside of the filter leaves your home smelling great this is what we love about this machine but i got to tell you my favorite part and not because i'm lazy is the remote now let's go through the functionality of the machine and show you how it actually works now let's start at the beginning how do we turn it on very easy press the power button now to turn it off the same just press the button again the next feature which i think is really really cool is the ai function on this machine what the ai function does is it will real-time monitor the air quality and based on the air quality will adjust the air speed up or down next is the sleep button as you press the sleep button you'll notice that it turns off all of the lights and it will lower the fan speed down so that you can have a restful and a quiet night's rest next the ultra speed button and this one to me is really important as you press this one what it does is it sets it to the highest speed for 30 minutes at which point it will then go back down to the speed that you've had set before this is important especially if you have that one smelly family member we all have them sitting around the house you'll want to kick this thing into high gear this is the child lock button as you press the child lock button it will lock all features on this machine now we designed this with your children in mind with no sharp edges and as the lid is removed the machine will automatically turn off as well next function is the timer function this allows you to set between 1 and 24 hours after which it will automatically shut off next is the negative ion button as you press this button you go into negative ion mode this is fundamentally changing the air around you we know there's a lot of scientific data on negative ions and the positive impact that they have on our health now the next one is an incredible upgrade from our 1.0 to the 2.0 and that is this high definition real-time screen that we have up here you'll be able to see items such as your tv oc's particulate matters the temperature and your humidity readings in the room now just like our 1.0 the 2.0 also has wheels on the bottom allowing you to move it efficiently and effectively wherever you want in the home another great upgrade from the 1.0 to the 2.0 is its obvious size now this machine will now take 725 cubic meters of air and clean that as opposed to the 475 cubic meters of air with the old machine that is a lot more fresh air in bigger spaces now another great improvement is that this machine will filter out 99 of contaminants such as formaldehyde tooling benzene vzocs right this is an incredible upgrade from the 1.0 into the 2.0 we're so excited about this product and even more excited to get it into your home we want you to experience what we've already experienced now we took a lot of time we took a lot of heart we took a lot of soul to develop this product to bring you the most incredible experience in air purification we feel that right now is the most important time to launch this product especially with all of us being in home working from home everybody being in close quarters using a lot of sanitizers using a lot of chemical compounds to clean our home but we are confident that this product right here will provide you with the cleanest and safest air possible ricordati che puoi scegliere cosa mangiare puoi scegliere cosa bere ma non potresti scegliere che aria respirare con purity air invece si ricordati di iscriverti al canale e attivare il campanello per essere aggiornato su ogni nuovo contenuto ti aspetto ogni giovedì sera alle 21 e 30 al live dove intervisterò diversi imprenditori che hanno fatto del network marketing la diversificazione per il loro business alla prossima